Siamo davanti a una delle pareti del nostro stand che abbiamo chiamato Gusto e Memoria in cui i visitatori dello stand saranno chiamati a selezionare uno dei prodotti rappresentati e nella nuvoletta a fianco indicare il loro ricordo collegato a quel cibo. Crediamo che sia anche un modo divertente per movimentare lo stand, ringraziamo Arta Portè che è l'agenzia che con noi ha collaborato a questa iniziativa e invitiamo tutti a venire nel nostro stand a scrivere il proprio pensiero collegato a un cibo.